Previsioni per oggi, al mattino, al nord, banchi di nebbia, al centro, schiarite alternate a nubi sparse, al sud, nubi irregolari con locali acquazzoni. Nel pomeriggio, al nord, del tempo con cieli sereni o velati, al centro, del tempo con cieli sereni, al sud, soleggiato ma con nubi sparse. Previsioni per domani, al mattino, al nord, banchi di nebbia, al centro, del tempo ma con qualche foschia, al sud, del tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, al nord, del tempo ma con qualche foschia, al centro, del tempo con cieli sereni o velati, al sud, poche nubi sfilacciate con schiarite prevalenti.